Forteto ancora nella bufera dopo l'accusa di maltrattamenti e abusi sui minori arriva quella di truffa allo Stato. La procura di Firenze infatti sta indagando sui finanziamenti ricevuti dalla regione toscana fra il 2002 e il 2008. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che alcuni corsi di formazione ideati e promossi dalla fondazione e finanziati dalla regione non siano in realtà mai stati svolti. Il forteto attualmente ha processo per maltrattamenti e nel caso del suo guro Rodolfo Fiesoli di abusi sessuali sui minori. La Guardia di Finanza si è presentata all'alba di ieri negli uffici della comunità per acquisire documenti ma anche computer e palmari. I difensori degli imputati hanno tra l'altro protestato poiché su quelle memorie informatiche ci sarebbero anche i risultati delle indagini difensive dei loro assistiti. Le erogazioni nel mirino degli investigatori sarebbero quelle ricevute dalla regione toscana per convegne e attività formative tra il 2002 e il 2008. Le stesse erogazioni erano state anche al centro della relazione della commissione d'inchiesta del consiglio regionale nella quale si sottolineava che esse erano state concesse nonostante Fiesoli fosse già stato condannato nel 1985 per atti di libidine violenta, corruzione di minore maltrattamenti.